E della partnership tra Rockwell e PTC che si appresta a compiere un anno di vita, parliamo con Francesca Tagliani, direttore marketing Europa di Rockwell. Com'è nata, che obiettivi aveva e a che punto siamo? Allora, buongiorno. Partnership con PTC, tra PTC e Rockwell, nasce circa un anno fa, un po' di meno di un anno fa e tantissimi progressi in quest'anno. Perché è nata? È nata sostanzialmente per rendere i processi di digitalizzazione dei nostri clienti più semplici per loro. Questo è l'obiettivo principale. Quindi, mettendo a frutto entrambe le nostre conoscenze tra Rockwell Automation e PTC, siamo convinti di poter offrire ai nostri clienti un processo di digitalizzazione estremamente fruibile. Che cosa c'è per noi? Che cosa c'è per PTC in questa partnership? Per noi, come Rockwell Automation, la grandissima esperienza nel mondo OT che ci portiamo da tantissimi anni è essenzialmente l'asset critico che portiamo a questa partnership. PTC, un'esperienza diversa, più forte sulla parte software, che può senz'altro beneficiare della nostra esperienza nel mondo OT. Quindi un esempio di convergenza vera fra OT e IT. Cosa è successo in quest'anno? Innanzitutto, in maniera molto agile, le nostre aziende hanno imparato come collaborare. E i nostri clienti ne stanno già traendo dei benefici. Quindi abbiamo fatto pilot, abbiamo fatto implementazioni, in cui abbiamo consentito ai nostri clienti di utilizzare automazione e augmented reality, virtual reality, per veramente apportare dei benefici in termini di produttività estremamente tangibili. Quindi un ritorno sugli investimenti reali. È una partnership in cui Rockwell crede molto e anche investito finanziariamente perché non è solo una partnership industriale. Quali sono i prossimi obiettivi di questa partnership? Allora, due cose. Innanzitutto Rockwell è abituata come azienda Rockwell Automation a lavorare sul concetto di sistema. Quindi il concetto di partnership, il concetto di ecosistema è una cosa che ci rende estremamente orgogliosi e in cui noi diamo il meglio. Questo è il primo aspetto che per me è fondamentale. Con PTC in particolare vediamo sostanzialmente una combinazione fra le due aziende che ci può portare in entrambi i casi molto lontano. Un'ultima domanda. Che ruolo ha l'Italia nella visione di Rockwell e nelle strategie di Rockwell nell'ambito dell'Europa che è il campo che le segue? Certo. Allora, l'Italia è da italiana, devo dire, è estremamente interessante per me vedere come le innovazioni di cui parliamo a livello globale spesso, molto spesso, vengono generate proprio in Italia. Penso in particolare alla carica innovativa dei nostri costruttori di macchine, della terra qua in cui siamo a Parma che hanno la capacità di innovare da un punto di vista di progettazione estremamente avanzato tanto da poi essere esportabili in tutto il mondo. E quindi per noi questo è l'aspetto che è fondamentale con l'Italia. Grazie. 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 Grazie.